Buongiorno a tutti, bentornati ai nostri appuntamenti con Sotto Sovra, legati alla tecnologia e società. Oggi siamo molto fortunati, siamo in compagnia di Primavera De Filippi, che è una delle principali esperte a livello internazionale, legate al tema della blockchain e in particolare al rapporto con le questioni legali e legate alla filosofia giuridica. La ringraziamo innanzitutto per il tempo che ci sta dedicando oggi. Primavera De Filippi è ricercatrice permanente del CNRS di Parigi e faculty associate del Beckman Clean Center for International Society dell'Harvard University. Di vista artistico è stata anche un'artista rinomata, combinando diverse forme d'arte con concetti intorno alla cultura libera e alla blockchain. I suoi lavori più recenti e più arrivano attorno al Plantoid, una forma di vita basata su blockchain di cui parleremo durante l'incontro di oggi. I suoi principali riconoscimenti citiamo il fatto che sia membro del Global Future Council on Blockchain Technologies del World Economic Forum. È stata inoltre inserita nel 2018 tra i 40 e i under 40 sul FinTech della rivista americana Fortune e una delle 25 figure di spicco della Commissione per l'informazione e la democrazia lanciata da Reports Senza Frontiere. I suoi studi si focalizzano sulle sfide legali che emergono grazie allo sviluppo di tecnologie decentrate, con particolare riferimento allo blockchain. Ha pubblicato a tal proposito un libro nel 2018 insieme ad Aaron Wright, il libro Blockchain and the Law, è stato pubblicato dall'Harvard University Press. Innanzitutto partirei proprio dalle basi, diciamo così, e quindi chiederei di spiegare un po' al nostro pubblico che cosa è esattamente la, anche se insomma questo mi capi, chiaramente in pochi minuti, cos'è la blockchain. In pratica c'è la versione da un minuto, diciamo che la blockchain è la tecnologia usata da bitcoin e l'idea è di creare un sistema nel quale è possibile scambiare del valore senza passare da un intermediario centralizzato, quindi senza passare da una banca. E' un problema abbastanza complesso perché c'è sempre questa questione della temporalità, nel senso che se io possego 10 bitcoin e mando da una parte e 10 bitcoin dall'altra parte, visto che non esiste questo operatore centralizzato che riceve le mie richieste e che va a trattarle e quindi sa che una è arrivata prima dell'altra e quindi la seconda è invalida perché non ho più soldi, in un sistema decentralizzato c'è questo problema che sono tutti e due valide teoricamente e solo che sono incompatibili una con l'altra e non essendoci questo operatore centralizzato diventa molto difficile, impossibile per una rete decentralizzata di decidere che una di queste transazioni è valida e l'altra non è valida. E quindi la blockchain è un po', almeno la bitcoin è stata creata per risolvere questo problema e la soluzione che è stata identificata è quindi di creare questo registro decentralizzato quindi ogni nodo della rete possiede tutta la copia di questa blockchain e la gente può mandare delle transazioni alla rete in general e a un certo punto ci sono alcuni attori della rete che vanno a collezionare queste transazioni in un blocco e poi vanno a mandare il blocco alla rete dicendo aggiungiamo questo alla blockchain e poi ovviamente tutti quelli che ricevono il blocco vanno a verificare la correttezza del blocco nel senso che vanno a vedere se effettivamente tutte le persone che stanno facendo una transazione hanno sufficientemente fondi per eseguire questa transazione e questo è il principio di base e quindi uno non ha più bisogno dell'operatore centralizzato perché può verificare di per sé se effettivamente queste transazioni sono giuste e poi comunque rimane però il problema della temporalità nel senso che se io ricevo un blocco blocco e un'altra persona dall'altro lato della rete riceve un altro blocco che magari hanno delle transazioni incompatibili non funziona il senso non funziona più perché io avrò una visione del database e qualcun altro ha una visione diversa e quindi la problematica fondamentale della blockchain è fare in modo che tutti abbiano lo stesso stato che questo database anche se decentralizzato sia riconosciuto da tutti allo stesso modo e quindi bitcoin ha aggiunto alcune particolarità che quindi il mining in pratica quando quando una persona va a sottomettere un nuovo blocco alla rete non non basta di mandare questo blocco deve anche aver risolto un problema matematico che è molto che richiede abbastanza tempo e energia da risolvere e del modo che è utilizzato per poter rientrodurre questo concetto della temporalità quindi tutti tutti quelli che partecipano alla alla rete quindi i miners vanno a creare i blocchi e poi devono trovare una soluzione a questo problema informatico che poi quando viene viene sottomesso il blocco alla rete tutti gli altri possono verificarlo con la particolarità di questo problema che è molto difficile da trovare ma una volta che la soluzione è stata trovata è molto facile verificare che che la soluzione è giusta e quindi abbiamo tutti questi questi miners che collezionano le transazioni le mettono in un blocco e poi devono trovare la soluzione che specifica questo blocco il primo che trova la soluzione lo manda alla rete tutti gli altri verificano sia la correttezza matematica del contenuto delle transazioni sia la correttezza di questa soluzione di quel problema informatico se giusta accettano il blocco e quindi introducono questo blocco dentro alla loro copia locale e poi si ricomincia e adesso tutti hanno questo nuovo blocco e la gente adesso va a cercare delle nuove transazioni creare un nuovo blocco e attaccano questo blocco dopo il primo e la particolarità quindi per per mantenere questa temporalità ogni blocco ha una referenza al blocco precedente e questa referenza rappresenta un po la l'impronta digitale del del blocco quindi quando c'è il file con tutte le transazioni che rappresenta il blocco dentro a questo file metti anche l'impronta digitale del blocco in modo che se qualsiasi persona andasse a modificare il contenuto del blocco quindi cambiare una transazione allora l'impronta digitale del blocco cambierebbe ok e quindi la sicurezza della blockchain nasce dal fatto che visto che ogni blocco fa una referenza alla all'impronta digitale del blocco precedente se io vado a modificare a una transazione nella mia nella blockchain che è a 10 10 blocchi prima vuol dire che questa impronta digitale del blocco 1 è cambiata e quindi della la soluzione a questo problema anche cambia poi il blocco numero 2 che faceva referenza al blocco numero 1 non fa più la referenza giusta perché non è più la stessa impronta digitale quindi devi anche cambiare il blocco numero 2 e quindi devi anche ritrovare la soluzione informatica per il blocco numero 2 che è cambiato la stessa cosa col blocco 3 4 5 6 eccetera quindi in pratica perché perché è complicato dato la difficoltà di trovare la soluzione al problema informatico specifico ad ogni blocco a ogni cambiamento del contenuto di un blocco comporta un ricalcolo di tutti e di tutti i problemi associati a tutti i blocchi che vengono dopo e quindi a diventa improbabili più 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 si va all'inizio della blocce più diventa costoso in termini di energia e di tempo a di poter manipolare questa blocce e oggi dato la quantità incredibile di persone che partecipano a queste non sono il numero di persone ma il quantità di risorse informatiche che sono investite dentro a ritrovare la soluzione di questo problema informatico oggi è praticamente impossibile per una persona unica da sola di manipolare la block center che vorrebbe dire che è capace di generare dei blocchi più rapidamente di tutto il resto del della rete e quindi vuol dire che deve avere più di 50 per cento delle risorse informatiche che sono che sono investiti e quindi più più c'è più c'è del valore associato alla criptomoneta della blockchain più ci sono delle persone che vanno a partecipare come miners perché ogni volta che il miners identifica la soluzione per un blocco riceve in cambio una quantità specifica di bitcoins e quindi c'è una forma di sistema che più aumenta il valore della criptomoneta più ci sono degli incentivi economici per i miners di partecipare alla sicurezza della rete e quindi più diventa difficile risolvere questo problema informatico perché la difficoltà aumenta con l'aumentare delle risorse informatiche che sono investite in modo che ogni 10 minuti la soluzione è trovata quindi se ci sono troppe persone sulla rete la difficoltà aumenta se ce ne sono troppo poche la difficoltà si riduce in modo che in media ci vuole più o meno 10 minuti per trovare questa soluzione e quindi crea tutto questo sistema che permette quindi di introdurre un sistema di riintrodurre un sistema di temporalità in un sistema decentralizzato dove delle persone potrebbero creare delle transazioni allo stesso tempo che sono potenzialmente incompatibili e quindi creando questo sistema di blocchi e di problema informatico e di referenzamento del blocco uno dopo l'altro si risolve in maniera probabilistica questo problema del double spending che non so come si dice in italiano della doppia pesa sembra un'ottima traduzione perfetto grazie grazie mille molto molto chiaro ecco questa tecnologia che c'è così efficacemente descritto è nota di più per quello che è il bitcoin o le altre criptomonete se allargiamo però un po' con la visuale parlando di internet delle cose piuttosto che di contratti intelligenti o smart contract che dir si voglia quali sono le implicazioni di questa tecnologia oltre che chiaramente le semplici transazioni finanziarie quindi prima ho spiegato un po' il funzionamento di bitcoin quindi essenzialmente per transazioni finanziarie e poi ci sono alcune blockchain quindi che si sono sviluppate dopo che hanno aggiunto alcune funzionalità quali per esempio i contratti intelligenti o smart contract che più o meno funzionano sullo stesso principio però quindi invece di sottomettere una transazione finanziaria è anche possibile sottomettere uno script quindi codice informatico che quindi sarà registrato sulla blockchain e che permette quindi alle persone di mandare delle transazioni che non sono più solo una transazione tra un account e un altro account ma tra un account e un smart contract e quindi diventa possibile interagire con questi smart contract e ogni volta che io vado a fare una transazione con lo smart contract il codice che è associato con questo smart contract sarà eseguito ancora una volta da tutti gli attori che partecipano alla rete e quindi la particolarità è che diventa possibile creare dei software che a differenza del software tradizionale che viene eseguito da un server e che quindi esiste sempre un operatore che può controllare questo server e che può potenzialmente modificare il codice o almeno influenzarne le operazioni o anche stopparlo quando questo software è eseguito su una blockchain una volta che è stato registrato non è più possibile modificarlo per le stesse ragioni che se volessi modificare questo codice avrei bisogno di modificare i blocchi precedenti ed è complicato e quindi è possibile di creare questi software che operano in modo più o meno autonomo nel senso che non sono più dipendenti dall'operatore che gestisce il server e quindi finché esistono dei miners e finché la blockchain rimane operativa allora questo software rimarrà anche quello operativo e c'è una garanzia dalla parte di quelli che interagiscono con questo software che non cambia che una volta che il codice è stato stabilito l'esecuzione di questo software rimane sempre la stessa finché il codice non cambia mai e poi è possibile ovviamente reindirizzare alcune referenze per andare ad eseguire altro codice ma il codice una volta che è registrato non lo si tocca più e quindi questo permette di creare delle applicazioni che quindi comportano queste nuove garanzie una che è la garanzia quindi della tracciabilità perché è possibile verificare tutte le transazioni che sono state fatte con questo software ed è possibile di verificare quindi che ogni transazione è stata eseguita correttamente e che il codice è sempre eseguito allo stesso modo da tutti e seconda altra cosa c'è questa garanzia che il codice sarà sempre eseguito tale quale senza possibile modifica e senza che sia possibile fermarlo perché l'unico modo di fermare questi smart contract sarebbe di modificare o di stoppare la blockchain sottostante oppure di modificare il protocollo della blockchain che è successo una volta su Ethereum ma è una cosa molto rara che di solito non funziona di solito non si avvera grazie mille nel testo parli anche col tuo autore di l'ex criptografica e l'ex informatica puoi un attimino spiegarci questi concetti? Sì, quindi con l'internet negli anni 90 c'è stata tutta questa discussione riguardo alla questione come si può regolare questa rete che è una rete decentralizzata transnazionale eccetera e quindi si è cominciato a parlare della nozione di l'ex informatica che quindi come dice Lawrence Lessig code is law quindi che il codice fa legge fa effetto di legge nel senso che soprattutto su internet ci si rende conto che è difficile di andare a regolamentare gli individui direttamente invece diventa molto più facile usare l'infrastruttura tecnica della rete o delle piattaforme online in modo da regolare in modo indiretto gli individui che interagiscono su queste piattaforme e la particolarità quindi di questo concetto di l'ex informatica è che si usa sempre di più il codice come una metodologia che permette di fornire alcune limitazioni sul comportamento degli individui ovviamente visto che la legge informatica è gestita da degli operatori online anche se l'internet è una rete decentralizzata la maggior parte delle piattaforme su internet sono gestite da un operatore specifico e più il tempo passa più ci si rende conto che esiste una concentrazione che alla fine cioè ormai la maggior parte dei siti sono su cloud sono su Amazon eccetera oppure tutto il traffico che passa da alcune piattaforme tipo Google, Facebook, Apple eccetera e quindi questa concentrazione del traffico dentro alle piattaforme di alcuni operatori fa sì che certo esiste questa nuova metodologia di regolamentazione col codice ma alla fine esiste sempre la possibilità per il governo per la legge di andare a regolare gli operatori di queste piattaforme quindi la legge informatica diventa allo stesso tempo un metodo di regolamentazione privata perché alla fine rimangono sempre questi operatori che vanno a fare il design di queste piattaforme però loro sono sottomessi anche alla legge e quindi il design di queste piattaforme dipende anche da da come la legge prescrive che siano implementate o se alcuni limiti devono essere creati per esempio per la moderazione dei contenuti eccetera quando ci si sposta quindi sulla blockchain quindi si spassa dalla legge informatica alla legge criptografica e la particolarità è che non esistono più questi operatori intermedi e quindi la legge criptografica è più difficile da regolare quindi rimane un meccanismo di regolamentazione privata visto che sono gli attori della blockchain che vanno a concepire e a implementare questi sistemi che sono dei sistemi di regolamentazione visto che una volta che voglio interagire con queste piattaforme devo assolutamente seguire le regole del protocollo altrimenti non funziona però un governo per esempio ha molto più fatica a capire quali sono i punti di intervento sul quale possono andare per influenzare il design o le operazioni di queste piattaforme perché non esiste un solo attore che ha la possibilità di intervenire quindi non c'è più l'operatore centralizzato c'è una rete molto decentralizzata di attori che tutti hanno un pochino di influenza sulle operazioni della rete della blockchain ma nessuno ha il potere unilaterale di fare un intervento e quindi la legge criptografica è questa specie di sistema di 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 slow però dove è molto più il codice rappresenta veramente una 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 forma più più potente se vogliamo di regolamentazione perché non è non è soggetto in modo diretto alla regolazione tradizionale dai governi ciao chiarissimo e infatti questo tra l'altro appunto giustifica anche il quale entusiasmo che c'è che c'è stato in passato insomma che c'è tuttora in un certo ambiente libertario diciamo anarcho capitalista eccetera rispetto alla alla possibilità appunto aperta dalla bitcoin e dal sistema di blockchain per esempio c'è un testo sempre uscito sempre nel stesso periodo del tuo che si chiama radical markets in cui per esempio si evidenzia una serie di possibilità di governance attraverso sistemi di mercato sempre più diciamo pervasivi se vogliamo e quali possono essere però un po' i limiti magari di questo approccio rispetto magari ad un approccio in cui si va a ristudiare rinventare diciamo una governance democratica diciamo su basi appunto differenti sì beh il problema di base è che la maggior parte di questi blockchain quindi adottano un modello pseudonimo quindi che chiunque può partecipare a una blockchain senza dover identificarsi e quindi c'è ovviamente bene perché vuol dire che non c'è un gatekeeper che non permette alla gente di partecipare allo stesso tempo vuol dire che non esiste più il concetto di democrazia perché se non è possibile sapere se un conto è associato a una persona oppure se una persona può aprire centomila conti accounts diventa complicato creare un sistema democratico e quindi quando si parla di governance nel caso della blockchain che è un soggetto assolutamente affascinante c'è sempre questa questione di come come si crea una governance in un modello nel quale non possiamo sapere chi sono gli individui dietro e soprattutto non possiamo avere un link diretto tra gli accounts e le persone e quindi nel caso della maggiorità di queste blockchain il sistema è essenzialmente un sistema basato su 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 delle risorse di mercato quindi nel caso di bitcoin e nel caso di tutte le tutte le blockchain che si appoggiano su questo sistema quindi di mining e di proof of work più una persona investisce delle risorse informatiche nella nella rete più questa persona ha un potere di influenza nella decisione di quali sono i blocchi che quali sono le transazioni che vengono aggiunte nella blockchain e quindi rimane una cosa molto economica se io ho abbastanza soldi da investire per 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 investire le mie le mie risorse informatiche nella rete ho più potere di uno che ha un computer minuscolo e che non può contribuire in modo sostanziale al mining quindi la più parte del sistema di proof of work è basato sulle risorse informatiche che quindi è una forma di potere economico e poi ci sono altri meccanismi che usano implementano dei sistemi di governance che sono basati sulla quantità di criptomoneta posseduta dalla gente nel senso che se io devo partecipare a una decisione più possiego dei token o delle criptomonete più il mio voto avrà un peso elevato e queste due soluzioni sono essenzialmente perché non avrebbe senso di dire che ogni account ha un voto perché altrimenti è facilissimo per chiunque di andare a moltiplicare i suoi voti moltiplicando i suoi account e quindi c'è bisogno di trovare qualche cosa che sia che abbia una forma di scarsità che siano quindi le risorse informatiche che siano le criptomonete eccetera e bisogna basarsi essenzialmente su questa tipologia di scarsità perché non esiste la connessione con l'individuo e quindi ovviamente la conseguenza è che la maggior parte di questi sistemi cominciano col tempo ad avere una concentrazione di potere perché ci sono queste dinamiche oligopolistiche nel quale se io ho delle risorse molto spesso posso usare queste risorse per acquisire più risorse quindi se io ho tante risorse informatiche posso partecipare al mining e quindi posso ottenere in cambio dei bitcoin e quindi posso reinvestire i soldi che ho guadagnato in nuove risorse informatiche eccetera e quindi quello che succede è che si diventano un po' dei sistemi plutocratici nel quale quelli che hanno il massimo di risorse hanno il massimo di influenza ci sono alcune iniziative che si stanno creando che stanno provando a creare dei sistemi di identità che permetterebbero di reintrodurre dei principi un pochino più democratici nella governance della blockchain ma per ora diciamo che a meno che la maggior parte di questi sistemi di identità sono basati su degli operatori centralizzati che vanno a verificare che nessuno abbia due identità perché il problema è che se hai un operatore che verifica tutte le identità non c'è problema se cominciamo ad avere molteplici operatori che vanno a verificare la mia identità io posso provare che esisto da uno dall'altro e dal terzo ma se loro non comunicano le loro informazioni tra di loro non sanno che questi tre account sono connessi con la stessa persona quindi c'è questo problema che è un problema fondamentale che quindi c'è un'identità deve avere un sistema di identificazione deve avere allo stesso tempo deve essere unico nel senso che ogni identifier deve essere associato unicamente con una persona quindi non due persone possono avere lo stesso identifier e questo è facile da risolvere perché basta con il sistema di chiavi pubbliche e private si possono creare questi identificatori unici invece il problema più complicato è quello della singolarità e quindi vuol dire che non deve essere possibile per una persona di avere più di un identifier e questo è difficile in un sistema decentralizzato appunto perché anche se posso provare la correttezza e la vericità della mia identità non posso provare il fatto che non ne ho create tante e quindi questo è il problema essenziale che viene riscontrato in questo sistema di governance della blockchain che è data la difficoltà di assicurare la singolarità delle identità dentro a un sistema decentralizzato alla fine invece di avere dei sistemi democratici la maggior parte di questi sistemi usano dei sistemi quindi basati su dei sistemi plutocratici basati sulla possessione di token o di risorse informatiche bene mi collego a quanto detto nell'ultima risposta per un piccolo approfondimento in uno dei tuoi ultimi studi sempre sul discorso dell'identità digitale hai anche affrontato alcuni esempi in positivo di questo utilizzo soprattutto in ambito umanitario parliamo di rifugiati piuttosto che di progetti del World Food Program ne abbiamo parlato peraltro anche qualche settimana fa con Sara Marino ricercatrice a Londra quali possono essere i vantaggi in questi contesti globali per una autosovranità sì quindi c'è tutto questo concerto di self-sovereign identities dove l'idea è che gli individui devono essere devono rimanere nel controllo delle loro identità e quindi non ci dovrebbe essere un operatore che va ad assegnare l'identità alla gente ma al contrario sono le persone che controllano i loro attributi e i loro identificatori e quindi c'è tutto questo questo movimento interessante quindi di self-sovereign identity e sostanzialmente ancora una volta c'è da distinguere quindi tra il concetto dell'identità l'identifica non so come si dice identifier in italiano identificatore sì identificatore quindi l'identificatore che va quindi a che è associato che fa la referenza ad un individuo quindi ad un'identità e poi ci sono tutti gli attributi che sono associati a questa persona quindi l'identifier deve essere unico gli attributi non hanno bisogno di essere unici e quindi c'è tutto questo sistema che si sta sviluppando riguardo quindi ai certificati delle attestazioni quindi io posso andare da una varietà di attori che possono verificare alcuni miei attributi e mi danno un mi danno un certificato che hanno verificato quindi per esempio se io devo provare che sono una cittadina europea non ho bisogno e che sono che ho più di 18 anni non ho bisogno di andare da ogni operatore col quale interagisco a dare i miei documenti a dire esattamente dove abito a dare esattamente la mia data di nascita posso andare semplicemente da un operatore di cui mi fido posso dare le informazioni a questo operatore e questo operatore in cambio mi dà una una credential mi dà quindi un'attestazione che dice io operatore X ho verificato le credenziali di primavera e certifico il fatto che effettivamente sia cittadina europea e che effettivamente abbia più di 18 anni e poi io adesso quando vado ad interagire con degli altri operatori ho solo bisogno di mostrare queste certificazioni e dal momento che questi altri operatori si fidano dell'operatore che io ho utilizzato per creare la certificazione allora possono accettare e come se e come se avessero verificato loro ma non hanno bisogno di verificare perché è già stato verificato una volta quindi è abbastanza interessante soprattutto dato tutte le le questioni quindi di data protection quindi di minimizzare il bisogno di andare a comunicare costantemente con tutti gli operatori con i quali si interagisce tutte le informazioni riguardo ai nostri dati personali basta avere alcuni operatori di cui uno si fida e poi di creare quindi una una rete di certificazioni di attestazioni che permettono quindi di interagire con gli altri operatori di cui o non ti fidi o semplicemente non hai voglia di ridare ancora una volta le informazioni quindi questo riguardo agli attributi quindi le credenziali e poi invece riguardo all'identità quindi e soprattutto quindi questi vengono usati nel caso con i con i rifugi con le persone che non hanno non hanno un'identificazione governamentale e spesso quindi appunto per 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 sopravenire al problema della singolarità degli identifiers si usano le i dati biometrici e quindi l'unicità viene viene risolta tramite quindi sia i fingerprints o con l'iris degli occhi eccetera che poi vengono lasciati vengono registrati come diventano un attributo dentro a questa collezione di credenziali e poi devono essere ovviamente comunicate da un operatore che poi le riconosce e c'è il suo proprio database quindi tutti questi sistemi sono comunque in ogni caso risolti in modo che tutti che gli individui possono rimangono nel controllo di tutte le loro attestazioni credenziali eccetera ma per garantire l'unicità di questi di questi di questi account rimane sempre necessario che ci sia un operatore che vada a verificare che effettivamente questa persona è unica nel loro database e quindi una volta che c'hai la certificazione per esempio dell'UNHCR allora puoi andare dagli altri operatori e sai che questo account è stato verificato ed è associato a una sola persona nel mondo fisico ma rimane comunque questo problema quindi c'è il vantaggio che non è una persona terza che va a assegnarmi un'identità e rimango sempre dipendente da questo operatore per poter identificarmi invece qua l'individuo possiede tutti i documenti necessari in modo numerico per poter andare a interagire con gli altri operatori dal momento che questi altri operatori si fidano della verificazione che è stata fatta dall'operatore che ha firmato le credenziali c'è questo equilibrio instabile tra la necessità di un'autorità che certifichi la situazione e questa potenzialità di autogoverno da questo derivano due domande che vorrei farti si parla spesso di capitalismo della sorveglianza mentre esistono anche alcune possibilità tecniche per usare i dati solo per quello a cui servono all'utente ti chiederei un po' tra proposito anche di introdurci al concetto di DAO e alle potenzialità che queste forme tecnologiche hanno per la riapertura di spazi democratici sì ma in pratica non è molto più facile spiegare una DAO che spiegare in pratica una DAO quindi Decentralized Autonomous Organization che è un nome un po' un po' strano tutti i nomi sono un po' strani perché smart contracts non hanno niente a che fare con un contratto è un Decentralized Autonomous Organization in pratica è un smart contract che diciamo abbia alcune particolarità che quindi integra un sistema di governance quindi un smart contract e qualsiasi codice informatica che viene registrato sulla blockchain diventa uno smart contract alcuni di questi smart contract hanno alcune particolarità che fanno sì che possono essere caratterizzati come una DAO ed è il fatto che hanno un modello di governance quindi che richiedono l'input di persone esterne per decidere per le loro operazioni e questo modello non esiste una definizione accettata di DAO però generalmente per essere decentralizzata e autonoma queste organizzazioni che sono quindi mediate da uno smart contract devono avere un sistema di governance che sia almeno tecnicamente decentralizzato anche se ovviamente non è possibile verificare qualcosa che tecnicamente è concepito in modo da essere un sistema di governance decentralizzato non è possibile sapere se in pratica è veramente decentralizzato perché io posso creare una DAO che appunto sia basata su un sistema di voto basato sulla possessione di alcune criptomonete e quindi tecnicamente è decentralizzato perché chiunque possiede queste criptomonete può partecipare nella presa di decisioni però magari tutte queste criptomonete sono possedute da una persona o da due e questo non si può sapere quindi la definizione della DAO è più una definizione a livello tecnico che richiede che esista un sistema che permette potenzialmente almeno a livello tecnico di avere una governance distribuita decentralizzata e quindi in pratica sono questi smart contract dove di solito la gente va a mettere delle criptomonete dentro a questo smart contract e poi assieme vanno a decidere come vengono usate queste criptomonete quindi c'è un collective decision making che entra in gioco e quindi un po' come con l'internet sono nate tutte queste digital mediated organization quindi delle organization che sono gestite e operate via medium digitali le DAO in qualche modo sono delle organizzazioni che sono mediate tramite la tecnologia della blockchain quindi rimangono comunque delle organizzazioni nel senso che rimangono delle persone che si mettono assieme per cooperare per avere una missione una funzione però invece di usare i medi tradizionali o il medium informatico vanno a usare la blockchain e quindi ancora una volta ci sono queste garanzie addizionali che entrano in gioco perché c'è la trasparenza quindi è possibile di vedere esattamente come funziona questa organizzazione quali sono le regole quali sono le procedure eccetera perché tutto è codificato sulla blockchain è possibile di vedere tutte le transazioni che vengono fatte con questa organizzazione quindi si sa esattamente chi ha interagito con chi e chi ha deciso che cosa e poi c'è quindi questa garanzia anche che nessuno può cambiare le regole quindi non è come se in una compagnia tradizionale a un certo punto il direttore il CEO potrebbe decidere allora cambiamo un po' le regole si fa un voto eccetera e possono cambiare le regole oppure qualcuno che può provare a non rispettare le regole invece nel sistema di una DAO per tecnicamente una volta che le regole sono state stabilite non si può infringerle perché sono automaticamente eseguite dalla tecnologia dalla rete dai miners sulla blockchain e l'unico modo per modificare queste regole è di seguire esattamente la procedura se esiste per upgradare il smart contract in un nuovo smart contract che funziona con delle regole differenti è più un constitutional amendment che deve essere fatto e quindi crea delle garanzie abbastanza interessanti riguardo a assicurarsi tutte le persone che interagiscono con questa organizzazione decentralizzata hanno una forte garanzia che l'organizzazione continua ad operare esattamente come è stato definito e nessuno può agire nel backstage perché non esiste il backstage tutto viene eseguito sulla blockchain direttamente vorrei ricollegarmi qui a un altro dei tuoi progetti che mettendo insieme arte e tecnologia può aiutare a spiegare meglio il concetto e il funzionamento della blockchain puoi parlarci dei plantoid quindi in pratica il plantoid è un tentativo mio che ho provato a fare di illustrare con la pratica artistica come funziona un'organizzazione decentralizzata e quindi l'idea era di creare nel mondo fisico una di queste organizzazioni che la gente può interagire quindi l'idea di base di una plantoid che l'obiettivo è quindi di riprodursi e quindi ci sono queste sculture metalliche che esistono nel mondo fisico e poi c'è il funzionamento quindi lo spirito della plantoid che esiste come uno smart contract sulla blockchain di Ethereum e quindi la gente può mandare delle criptomonete sullo smart contract associato ad ognuna di queste plantoid e a un certo punto quando hanno accumulato una quantità sufficiente di criptomonete la plantoid può iniziare il suo processo di riproduzione e in realtà quello che succede è che lo smart contract con il quale è associata va a accettare delle proposizioni quindi le persone possono mandare delle proposizioni su come prevedono di creare la prossima plantoid e poi tutte le persone quindi che hanno partecipato al finanziamento di questa riproduzione possono votare sulle proposizioni che gli piacciono di più e ancora una volta perché è un sistema ovviamente plutocratico più la persona ha mandato delle criptomonete più il voto sarà avrà un peso elevato dentro a questa governance e a un certo punto il smart contract quindi va a ponderare tutti questi voti e a identificare una proposizione che sarà la proposizione vincente e quindi automaticamente poi la plantoid va a trasferire le criptomonete che ha collezionato fino ad ora e le trasferisce quindi al vincitore all'autore della proposizione che ha vinto che sarà quindi impiegata o sarà commissioned dalla plantoid per creare una copia di se stessa e quindi l'idea è che io come artista creo ho creato alcune plantoid la prima plantoid però poi non controllo i fondi che vengono mandati alla plantoid quindi l'idea è proprio di modificare un pochino questa visione del diritto d'autore nel quale uno va a mandare i soldi a un autore sperando che l'autore continua a creare delle opere che piacciono al pubblico invece qua il pubblico può mandare direttamente i soldi all'opera stessa all'opera d'arte e tramite il suo sistema di governance è l'opera d'arte che va a decidere quale sarà l'autore l'artista che ha il diritto e che sarà pagato per riprodurre quest'opera e quindi può essere lo stesso artista se l'artista continua a creare delle opere che piacciono al pubblico oppure possono essere dei nuovi artisti che hanno sottomesso delle proposizioni più interessanti e quindi permette di illustrare un pochino l'idea che queste queste DAO queste organizzazioni autonome possono avere una forma di di autonomia e possono riprodursi possono interagire con altre persone e la cosa interessante quindi da un punto di vista giuridico è proprio di mettere in luce tutte le problematiche che non sono risolte assolutamente da una perspectiva giuridica che sono sollevate da queste organizzazioni decentralizzate sulla blockchain e quindi per esempio la questione di quando io mando delle criptomonete alla Plantoid chi possiede veramente queste criptomonete perché la Plantoid non ha una personalità giuridica quindi non può possedere delle criptomonete quindi quando sono mandate con le criptomonete sono possedute da uno smart contract è difficile capire chi possiede veramente queste criptomonete allo stesso modo quando la Plantoid va a mandare i soldi all'autore della proposizione vincente e crea quindi una transazione smart contract con questa persona quindi c'è un contratto o non c'è un contratto e se c'è un contratto chi sono le parti del contratto visto che la Plantoid di per sé non ha una capacità giuridica come si può creare un contratto tramite una persona una persona e uno smart contract senza avere la personalità legale cosa succede se per esempio l'artista che ha ricevuto i soldi crea una Plantoid ma non rispetta le condizioni del smart contract e crea una Plantoid che è diversa e che non è esattamente come aveva promesso di farlo chi può andare in giustizia chi può intervenire al nome della Plantoid per per chiedere non lo so danni o per chiedere un'ingiuzione eccetera quindi ci sono tutte queste questioni intorno al fatto che uno smart contract può possedere delle risorse digitali può possedere delle criptomonete o dei token che si possono creare queste forme di smart contract tra un smart contract e una persona fisica ma non avendo lo smart contract nessun tipo di personalità legale o di capacità giuridica il sistema giuridico attuale non può capire queste interazioni perché non le vede non vede l'esistenza del smart contract come un attore potenziale in ambito giuridico e quindi la Plantoid l'obiettivo era proprio di illustrare questo che esiste una forma di un quadro tecnico nel quale alcune cose sono possibili come il trasferimento di criptomonete e la creazione di smart contract con queste entità che sono delle entità informatiche sulla blockchain ma che è possibile da un punto di vista tecnico ma che non è possibile da un punto di vista giuridico e quindi c'è una forma di discrepanza che emerge tra le possibilità tecniche e la comprensione e la visibilità del sistema giuridico di queste potenzialità estremamente interessante e affascinante come progetto e al di là dello scopo spiegativo comunque sta andando avanti quanti Plantoid esistono oggi? oggi ce ne sono 13 ce ne sono 12 e c'è una tredicesima che si sta producendo molto molto bello e sul sito ci sono le foto anche del plantoid.org e si possono vedere tutte le plantoid e leggere la loro storia grazie grazie complimenti anche oltre che per tutti le competenze il discorso giuridico anche per questo progetto praticamente originale e se vuoi dedicarci ancora qualche minuto avrei le ultime due domande però sono abbastanza brevi rispetto a quelle che ho fatto finora la prima è rispetto al libro che insomma abbiamo parlato prima che comunque è del 2018 tre anni che non sono tanti se si trattasse di un comune di un comune libero di filosofia politica piuttosto di studi giuridici però da una parte la tecnologia viaggia in maniera accelerata mentre dall'altro la pandemia in quest'ultimo anno ha modificato molto la penetrazione stessa delle nuove tecnologie nella vostra vita di tutti i giorni ecco volevo chiederti se dovessi riscrivere oggi il tuo libro il tuo ultimo libro cosa la situazione è cambiata come lo modificheresti la cosa interessante è che tre anni sono tantissimo tempo nel mondo della blockchain allo stesso tempo da un punto di vista giuridico non credo che siano cambiate tante cose che è abbastanza interessante e forse sorprendente quello che è cambiato molto sono le applicazioni quindi tre anni fa c'erano tante applicazioni ma poche che proprio avevano raggiunto un livello di adozione rilevante quindi era più esplorare quali sono le possibilità che queste tecnologie forniscono invece di analizzare gli usi reali perché all'epoca c'erano solo proof of concept eccetera adesso c'è tutto questo field questo ambito quindi di decentralized finance che ha mostrato di avere veramente un'adozione che adesso diventa un'adozione significante quindi a questo livello molte delle cose che nel quale parliamo nel libro come applicazioni potenziali si sono rivelate essere delle applicazioni reali quindi questa è interessante però da un punto di vista quindi di tutte le problematiche giuridiche che solleviamo nel libro le questioni rimangono non sono state risolte all'eccezione di alcune riguardo notamente alle securities con con le emission tokens eccetera che più o meno sono state risolte ma la più parte la maggior parte delle questioni quindi riguarda queste a questa distinzione tra quello che succede nella la blockchain e quello che il sistema giuridico riesce ad interpretare e a vedere non sono ancora stati risolti anche se appunto i smart contract cominciano ad essere usati e quindi penso che adesso è più una questione di tempo all'epoca le decentralize autonomous organization e smart contract erano esistevano ma il loro utilizzo non non giustificava diciamo una riflessione più approfondita dal livello giuridico invece oggi ci sono tantissimi soldi che vengono investiti in queste applicazioni di decentralized finance e credo spero che nei mesi negli anni a venire queste questioni giuridiche che rimangono senza nessuna risposta possano essere prese in considerazioni e che si trova eventualmente una risposta a queste domande ma quindi il libro credo che sia ancora d'attualità malgrado i tre anni perché in pratica le questioni sono rimaste le stesse non c'è una soluzione attuale ci sono alcune giurisdizioni che stanno passando alcune leggi alcuni decreti appunto per dare un riconoscimento giuridico agli smart contract quindi che possono essere che il fatto di creare una transazione con uno smart contract possa essere identificato come un contratto quindi che dà dialogo a un contratto giuridico ma rimane un contratto tra due individui che usano la blockchain come mezzo intermediario per creare un contratto giuridico ma non risolve la questione di cosa succede quando io persona fisica creo una transazione con uno smart contract che non ha necessariamente una persona dall'altro lato e quindi in questo caso è proprio un'interazione da persona fisica a codice digitale quindi l'esempio notamente della plantoid quindi queste questioni non è chiaro quale sono le parti del contratto quando entro direttamente in una transazione con uno smart contract invece di entrare in una transazione tramite uno smart contract con un'altra persona fisica quindi l'ecosistema ha evoluto molto ci sono molte più applicazioni e molte più adozioni di queste applicazioni ma alla fine l'analisi giuridica di queste applicazioni credo che non abbia cambiato molto da tre anni grazie ecco come ultima domanda invece poi smetto di approfittare del tempo del tuo tempo semplicemente collegato un po' insomma a internet insomma abbiamo vissuto negli anni negli anni 90 quando è diventato diciamo un progetto militare o di ricerca universitaria a una cosa diciamo per i comuni cittadini c'era stata un'enorme ondata diciamo di ottimismo rispetto appunto tutta una serie di discorsi che in qualche modo abbiamo visto si ripropongono oggi insomma come la disintermediazione la l'orizzontalità quant'altro che poi sono stati disattesi soprattutto con quello che è diventato internet negli anni negli anni 2000 insomma con quello che è stato il web 2.0 ecco volevo chiederti semplicemente secondo te se c'è qualcosa diverso questa volta con la blockchain come è possibile una tecnologia che spariglia le carte diciamo nuovo e quindi qual è la possibilità rispetto a una visione di un'utopia di qualcosa di effettivamente radicalmente nuovo e di rompente sì secondo me è molto interessante perché credo che le potenzialità sono molto elevate ma la probabilità che queste potenzialità si realizzano siano abbastanza basse quindi stiamo un pochino replicando esattamente le stesse dinamiche che sono di quello che è successo con l'internet negli anni 90 in pratica con la creazione di queste rete molto decentralizzate che quindi riintroduscono tutte le stesse promesse che si sentivano all'inizio dell'internet ma alla fine se si guarda il modo nel quale sta già oggi evolvendo questo ecosistema della blockchain ci si rende conto che già oggi ci sono molte dinamiche di concentrazione soprattutto a livello quindi del mining che ormai è impossibile per una persona unica di partecipare quindi sono queste grandi compagnie che hanno delle enormi server che quindi controllano la maggior parte del mining di queste di queste blockchain quindi c'è abbastanza concentrazione a livello proprio del mining ma poi anche a livello delle applicazioni quindi la maggior parte oggi delle persone utilizzano dei non so come si dice in Italia dei cryptocurrency exchanges quindi non detengono le criptomonete sul loro computer o sulla loro chiavetta ma invece utilizzano delle nuove banche online che sono i cryptocurrency exchange che sono loro che gestiscono le criptomonete per conto dei loro clienti quindi ancora una volta ci sono degli intermediari che stanno emergendo e allo stesso modo che l'internet rimane oggi una rete tecnicamente completamente decentralizzata solo che tutto il traffico passa tramite questi operatori centralizzati che alla fine possono controllare e regolare le operazioni della rete e allo stesso modo oggi tra gli operatori di cryptocurrency exchange tra gli operatori di custodian wallet eccetera quindi tutti questi operatori che gestiscono gli account delle persone che non vogliono avere la responsabilità di avere tutte le loro criptomonete sul loro computer che magari si rompe e perdono la chiave o qualcuno gli ruba la chiave e possono rubare le criptomonete quindi per desiderio quindi di non dover gestire tutta questa complessità la gente preferisce usare questi intermediari e quindi poco a poco e già adesso si nota che questi intermediari hanno un potere veramente importante perché per esempio quando c'è la questione di modificare il protocollo di una blockchain che normalmente dovrebbe essere una decisione completamente decentralizzata dove tutti possono partecipare possono decidere di seguire o non seguire una modifica adesso visto che ci sono questi operatori che concentrano molto una grande parte del traffico vuol dire che se io sono se io utilizzo un un exchange per gestire le mie criptomonete oppure se voglio interagire con una persona che che usa una un exchange per gestire le sue criptomonete vuol dire che quello che sceglie questo exchange se l'exchange sceglie di accettare una modifica al protocollo o non accettarla e quindi di seguire una bifurcazione della blockchain piuttosto che un'altra vuol dire che automaticamente tutti gli utenti di questo exchange vanno a seguire la stessa scelta e che tutte le persone che vogliono interagire con tutti gli utenti di questi di questo exchange vanno anche loro a scegliere lo stesso la stessa blockchain la stessa modifica e quindi si creano dei nuovi centri di di influenza di potere e quindi di controllo che vanno a sopravenire sopra alla decentralizzazione tecnica della rete e quindi in pratica le dinamiche sono abbastanza simili nel senso che le potenzialità di decentralizzazione e di desintermediazione esistono e esisteranno sempre perché la tecnologia non cambia rimane comunque infrastrutturalmente decentralizzata però con il tempo visto che si creano questi nuovi intermediari che non vanno a cambiare l'infrastruttura stessa della rete ma vanno a pluggarsi sopra e la gente semplicemente preferisce interagire con questi intermediari piuttosto che dover gestire tutte le complexità associate con creare il tuo proprio server eccetera in fin dei conti ci stiamo poco a poco riavvicinando a dei sistemi che diventano sempre più centralizzate allo stesso modo che abbiamo visto sull'internet insomma toccherà aspettare il web 4.0 insomma la tecnologia adesso le adereba tutte grazie veramente tantissimo questa primavera di Filippi per il tempo che ci ha dedicato e per le cose interessantissime di cui abbiamo parlato speriamo di avere nuove occasioni in futuro magari anche in presenza insomma quando ricominceremo incontrarci insomma per discutere questi temi e grazie ancora e alla prossima cancetta Grazie.